Questo secondo è questo scenario di 30. Cina era forse pick andato mid, il suo main role è il jungler, perchè cazzo vai mid Cina? Sei mutato. Non è vero. Perchè vai mid Cina? Eh, 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 il primo pig! Ti guarda questi capelli mamma mia. Ehm, non ho l'idea. Non mi immaginavo mai fight in mid. Invece. Siamo con i Rehler ragazzi. RA 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 Gianna pure, la codigiana. Eppure la ultima. Loro usano Blitzcrank, quindi invadranno. C'è una metina warder qua, tipo al quarantesimo. Così è perfino... ...deglio della warder lì. Vuole grabbar Bluewell? Eh ma lo stupiamo. È iniziato a ridurre un syring con l'aggressivo mid, stai attento che Malfight full AP! Cotta. Eh sì? Se si fa la deathfire e poi le fa deathfire ulti, c'è una cosa stupida. DOL! Ma sto di sin! LOL! Stupido Ashe. Che cazzo sta facendo sto missing? Ha flashato sì. Bout... Ha flashato Ashe. Inizia dal rosso. Ah, inizia sempre dal rosso l'isinn. Che dal blu non c'ha. Un peso. Un peso. Ma il feat è... Che DL. DL che è bello. Che è una delle rush curbay che tu abbia mai visto. Guarda quanto fa di... Di quanto? Fa tipo sui 90, 100. Di che di... di cu? Di cu? Di cu? Occhio, eh, che c'hanno le sienna. Aspetto che quando diventa tanki... Un kit. Buona idea. Oh, ora te lo posso blu. Di qui? Gio'azza, c'è l'altitudine. e prociderlo 20 hp ma che me sa che c'è l'isim o ancora da me è molto probabile che sia qua no, l'isim è qua arrivo anch'io no, no, non serve è andato via? immobile ex sta tornando a DTP se non mi avesse stilate mine avrei preso l'Avarice Blade invece hai pagato e non ti hanno fatto entrare io ho pagato e non mi fanno entrare ragazzi ma poi un cinese che si chiama Daniele avete mai sentito cioè abbiamo lo stesso nome io veramente non c'è più rispetto adesso c'è due Doros e alla fine Jotts ha ripusciato la linea così stavolta si crappy però beh come minimo e non è così non è così la valla rivelata eh no s'è una altra wave Ebbè, 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 ebbè Ho perso di poter minion perché Jarvan mi fa Andare su Jax e poi Ancora min Ebbè, 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 ebbè Ma che culo di merda Che culo Porca merda Oh my god Che culo Jax Arriva Blizzcrank Sono tutti più a buffo io Trego, 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 trego C'abbiamo fa il drago, c'abbiamo fa Se no ho usato il TP di Bobbuffo Scendi, scendi, scendi Sali? Sì, scendi Sì, scendi Sì, scendi Sì, scendi Ma dategli un knock up, vi prego Tu hai filato il tuo ceno, l'abetto Era fermo Malfa Malfa e te la fermo? mi ha fatto l'odore giocci quando è felato il knock ma alfai te la fermo sai io l'ho mandato qua lui è no no lui è fermo lo stonato io non lo facessi un passo in più cos'era stonato scusa eh? cos'era stonato io l'ho fatto quasi alla fine del tuo stile poi intanto si è espato Cristo e la Madonna e si è presa una torre non è tanto worth it eh si è presi due kill però noi prima saremmo killati già Lucian e basta perchè si è nascuta oh io ero un crepo stronzo occhio oh 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 Cina era un maid si il cazzo eh cosa serve adesso doveva farlo prima di poco ma il video si è ammazzato da solo what the fuck non jarvan cosa fa jarvan ma hai visto che ha fatto jarvan jarvan? cosa smanese di stilarmi tutti i miei mi sa che Jacks c'è alti più sai c'è alti più in anche l'adoro infatti guarda un po' c'è qualcuno che mi spavo su facebook guarda Il nostro corso gratuito è stato costruito. Oh, e che cazzo? Che è successo là? Stai affidato con la merdacina? Eeeh, mi stanno per visitare. Che cosa? Non è neanche più la torre! Per visitare anche prima. Sto venendo. Ci vado, ci vado, ci vado. Stiamo andando un po' deep. No, no, vieni. Dietro. Perché vedo l'ultimo? Sempre a me. Ma ci sono stato a me o a te ne sono stato? Noi, via, non penso. Ah già, vabbiamo in stile il farm, poi arrivate voi. Jax non c'è il flash. Ora ho il blu. Ora c'è un blitzcrumb. Se mi grabba mi giro o su Jax, eh? Non l'avevi detto che ti giravi su... Esatto. Tu devi da tempo al tempo. Basta, vi frego. Cosa? Stiamo via. Eserciterlo. No. So, Jarvan è un po' un coglione, però, no? Pure col botto. E pure col botto. Ho capito perché ho preso un maldito. Perché? Se fa la E non riesco a più a fare le Q. E di farne una seconda e ne faccio... E di farne una seconda e ne faccio... Vado top, vado, eh? 10 al TP. Ora ci serve la torre top. Che ha esattamente 1625 HP. Il web TP. Drago. Eh? Arriva Jax, mid arriva. Il drago. Ho capito. Lo so. Io per questo ho scritto Jax. Ho capito. Dax. Oh via, no, 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 no. C'è lui c'è lì. Ma se ci fosse un Gnocap di ma... Dicevi? Drago, drago, drago! Drago, 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 drago! Perfetto. Vediamo via che mi rompe il cazzo su WhatsApp. Io sto andando da luce. Sto a livello 11. Ma resta lop, vado io, miro, resta lop a prendere la dora. Guarda che ce l'ho fatto Sì 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 Guarda che ti gilla scappa Qua qua gina qua E fida Oh non c'è andato Sì sì Grazie abbiamo intrapolato Madonna Poi che c'è andato con L'extorso è su Janna, se stiamo rendendo conto Stavo il buff, Cina I don't give a fuck, diglielo un po' Cina DIGLielo DIGLielo, Cina Non gli devi scrivere, gg cosa? Ho vinto Hai vinto Vediamo se riuscirò a prendere la due top una volta per tutte Regalla va, poi noi giochiamo tutti i draghi, giusto? 3 minuti e poi se ci potrà Ho pusciato la wave, cazzo, cazzo mene Fotte sega, zio Fotte sega Voi, voi 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 Adesso è una cosa Ho Armare, quindi non lo dicevo Ok, 700 capito, comunque Gianna però non mi doveva venire da me È stata stupita È stata stupita È stata stupita E io ancora di più che ci sia rimasto Che cazzo Voi 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 No che culo o io ho fatto un livello lui c'è stavo troppo a cazzarosa coppa ormai e no 4.1 bush devo far qualcosa questi stati ha un sacco di vantaggi o ora non la vedi se sei incassato c no ho finito la ie fatti la angel ora cazzo da freddo guarda guarda nooo perchè arrivo no perchè non ci siete il segno no perchè io sono stupido capito oh mio dio dammi la q dammi la q spacco marta siamo già vinto questo ulti asce oh che cazzo è sto danno dammi che va a bo sotto torre aiuto 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 oddio mi ha shottato lucian ma eri anche sotto torre no no lucian mi ha fatto un danno da una donna io l'ho visto l'ho sentito cinavè il drago ci penso io botto cinavè il drago 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 infatti bottiglia mia oh mio dio posto per quando combinato che hanno combinato perché mi chica saprei a brutto bastardo padre drago oh grazie pregala perché tanto è il camas de quadra? il camas de quadra? è il camas de quadra? no cina no cina proprio penta proprio penta così selvaggio matto cina matto oh guarda lucian oh lucian non ce l'hai lucian sai chi ti rompe il culo ora? io sai che è un po' morto quel lucian vai vai ma figlia di una puttana tirare la kill di tornato basta lui voleva fare un nisek di quel ma 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 lui si è il cavo asce perché? chi è che ha grabato? ci ne avremo bisogno di te perché questo? sono appena spawnato eh quindi non sono vicino Stavo anche andando in top Poi c'è il blu loro Ma non give a fuck Siamo tutti in kit Siamo tutti qui Bello a saltare Ce ne ho visto questo da supporto morale C'è una qua Ma per favore i tuoi grab Non c'ho niente Arriva Jax Mi hai scappato E poi quella che sai qui in base Attenzione Attenzione Io non posso fare niente Perché Ce lo chigliamo? No Ce n'ha Ce n'ha Bravo Scappa Sì ma non muovo pure io Scappa che? Scappa che? Non tanto di prenderlo a video Prende l'individuore L'ho L'ho Kill l'ho Kill l'ho No 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 Mi farò l'ho già fatto Basta trollare Guarda Jarvan, sta fermo a guardar Ma poi Ash, perchè muori sempre? Sta a 2-7 Ash, sempre a morir Jonas frega le ulce buffo No! Dai, 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 ecco un... No! 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 Ma perchè fatti là? Addio, John Sta arrivando, resisti! Resisti! Ma 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 Basta, basta, basta T'annex sono stato buffo proprio C'è un Jax qua che è una fe kill C'è un Jax che è una fe kill Perchè? Perchè ti ho detto di fermarti prima Mi fida, mi fida Se non avessi avuto il place l'avrei ucciso Next time we have to let you outai All mid, come on 3 iniqua Flow? Morto Perchè più sueg andare prima dietro Si perchè mi fa sentire pro, capito? E lei, Insek? Quello è matto, l'ultimo buffo proprio così Guarda, guarda qua Si guarda Qua c'è qualcosa che Ho switchato il focus C'è no, c'è l'isin C'è l'isin C'è l'isin C'è l'isin C'è l'isin Fatemi recare un po' di vita Come se ne recassi tanto qua, c'è il drago Dai, non so se fosse il drago Cazzo se ne frega del drago Fini mi mola proprio, dici C'è l'isin C'è l'isin solo Andiamo Andiamo Facciamo una cosa in famiglia GG wellplayed ragazzi GG wellplayed Questa rotto challenger Cina Cina Dovevi attaccare solamente qua Quella ha fallato la ultima Questa rotta challenger 34 ragazzi E' stata vinta Ero a 28 punti di diamond 5 Vediamo quanti Punti prendo Ragazzi Vi voglio invitare a passare Nella pagina facebook del Cina Perché lui dà il culo gratis Su quella pagina Quindi Vi invito a passarci Cina ha il culo rotto Cina diglielo che è il culo rotto Avete sentito? Parole sue Quindi ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Proviamo ad arrivare a 400 like Più 16 punti Attenzione Attenzione Qui a manetta si sale 44 punti ragazzi Guarda i danni Guarda i danni Eh ma è normale Che lo fate più te Ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Se vi fa commentare Se vi fa condividete Arriviamo a 300 like Affaccia a tutti i ragazzi Venga il lupo Vagina Fai affaccia a tutti i ragazzi Vagina va Affaccia a tutti i ragazzi